Da oggi nella pinetta di San Francesco ci sono gli attrezzi ginici, una vera e propria palestra. Noi vogliamo trasformare tutta la città di Bari in una sorta di grande palestra a cielo aperto perché queste strutture le monteremo in altri spazi pubblici, in altri parchi, lo faremo a Largo 2 Giugno, lo faremo a Torre Quetta. Ci sono a Bari tantissimi runner, tantissimi ciclisti, tanta gente che fa attività sportiva, soprattutto all'aperto. Vogliamo permettere a queste persone di vivere bene, di stare bene, di potersi allenare e di farlo all'interno degli spazi pubblici.